Oh, bella ragazzi, vi è tornato da 390.2 di Square Gaming, sono Geoffrey al mio fianco, questo è Titanfall, stiamo cercando di fare una naba nuova, cioè giochiamo un po' uno un po' l'altro, cosa vuol dire? Che quando inizio io, quando muoio, passa il joystick all'altro. Allora, è difficile perché non solo c'è la complicazione di un live commentary su Titanfall che è molto difficile, infatti altri fanno il commentary, ma c'è anche questa ulteriore difficoltà del tipo che non riesce a concentrarti, perché quando muori, il joystick comincia a parlare, io ho un sonno pazzesco, io sono vecchio, mi dimentico le cose, quindi insomma, piano piano è ancora più difficile, insomma, morale della favola sarà un vero casino, quindi se vi piace questa modalità, bel pollicione in su, seguitici su Facebook, Twitter, se non vi siete ancora, se non si sono ancora iscritti cosa sono? Dei Titanfall. Cioè sono una caduta del Titan, sì. Vi è caduto il Titan nel cesso. Vi è caduto il Titan nel cesso, questo mi piace già di più. Vabbè, allora, inizia Joe, quindi ha Joe il joystick in mano, siamo nella milizia. No, io ho già sta mappa. Non sai che mi sta sul cazzampio? Ma non hai mai provato a giocare più questa? Ah, non è quella di più, ok. Questa nel maggior numero possibile. Comunque è una che io non posso soffrire, per la cosa. By the way. Joe, ma cosa vuoi fare? Ti veramente, ti stai cercando di mimetizzarsi tra i soldati semplici. C'è un pilota là, c'è un pilota, lo vedo. C'è un altro là, c'è un altro là. Joe, attento che c'è un altro là, se ti vede. Bella. Ma era solito semplice quello là. Ma porco zia. Adesso c'è il joystick in mano io. Sembra la minchia in mano. Va bene. Allora, cerchiamo di vedere perché poi diciamo... Ma no, non le sopporto queste mappe troppo aperte, no, no, no. Hai visto che mi ha fatto un saluto? Eh, sparagli. Non mi fa niente. No, a me non piacciono queste mappe, quindi siamo anche in due. Ma perché poi vedi, quando cammini qua, qui ci vorrebbe... Forse più del radar ci vorrebbe l'invisibilità, perché... Quando cammini qua, sui prati verdi... Ah, no, no, no. Ok. Non era un pilota quello laggiù. No, non mi sembra, però se mi dici che è un pilota mi fido. Perché se c'è troppo spazio, ti conviene essere camper. Minchia. Cos'era? Una mina, una granata. Stordente. Sì, cazzo. Poi quelle stordenti sono delle brutte bestie, perché... Bravo, 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 bravo. Tieni alta la bandiera. Lancia. Cos'è? Ah, ma perché è uno... Questo che cazzo sta puntando il muro? È un muro, fermo dove sei? Non ti muovere! Bravo, è fossa. Dai, sei pronta e qui. Io qui non mi fido ad attivarlo ogni volta che attivo, ma arriva qualcuno da dietro qua. Hai fatto la doccia? Come ho fatto la doccia? Bravo, ha aperto. Eh, c'era il vapore. Il vapore a 10. Lo chiamiamo quando vogliamo? Io lo voglio qua. No, non chiamalo. Vabbè, no, fai quello che vuoi. Perché poi non lo puoi usare tu. Dirà tutto. No, 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 no. Brutta merda. Lo sai che ti voglio bene. Ti lo lascerai anche il Titan. Ma c'è un punto C da conquistare. Come la mettiamo questo punto C da conquistare? Questo è il paradiso del campero, eh, io te lo dico già. Ok, questo punto di controllo è sicuro, ma ci manca ancora Bravo. Vai la giù. Questa è succedendo? Non l'ho capito, però... Ci sono dei momenti dove, tipo, dalle partite dove non capisci un cazzo ci sono i nemici ovunque. Con altre partite dove i nemici non esistono, sono stati rimossi dal gioco. Abbiamo perso Charlie. L'IMC ha tutti i punti di controllo, dovete riprenderli. Un secondo fa non li avevamo tutti noi. Cazzo, ma perché sono sempre attaccato da mille Titan contemporaneamente? Ma se ci andiamo a rifugiare qua dietro... Tipo... Non ci siamo. Cazzo. Mmm... L'accelo, Rau. C'è proprio quello che ci sta sparando, attenzione. E noi come dei Vili scappiamo. Come stiamo perdendo? Per noi è una vittoria, cazzo. Ci stiamo passando il joystick a destra e a sinistra. Non riusciamo mai a giocare in questa maniera. Sono senza parole. Quello sta dormendo. Sì, ma guarda che stanno facendo un culo a poco che l'amoroso. Sì, addirittura. 27093. Quello è un Auto Titan. C'è un tocco forte. Momentai da. Oh, sì. Ma io non vedo più piloti, ma dove cazzo sono? Ma dove sono tutti? Vedo solo Titan! Beh... Ah, soldato sempre... Ehi, c'è un punto di controllo in quell'edificio, vai là dentro e collega! Sono riuscito a prenderlo? No, no... Fanculo, guys... La passione non è bella per niente, siamo in forte svantaggio... Ma... e questo ti mettono pressione perché dico... Beh, brah... Piloti, il nemico ha tutti i punti di controllo, combattete e riprendeteli! Minchia, ero in mezzo a... ero chiuso a panino, eh? Forza di piegare! Lota devi a tartene, vai al fuso d'estrazione! Fighi, abbiamo perso così? Mmm... Sai che è un po' una sconfitta morale? No... Non riusciamo a performare con questa nuova nostra idea del cazzo! Ma è dettaglio che tu prendi in solità? Eh, ma è mossa! Tanto non conta come chi... Ah, ma culo... Ma cos'era? Tipo un paninazzo! L'abbiamo perso Gio, non fai così? E con la testa lì... Eh... Allora, fammi fare una partita da muzzo, vedi! E' il coltetto di trasporto, via! Secondo me il difetto è che ci piega troppo a fare le partite... Che è riuscita a scappare! Dice, non c'è di fare le partite! Ma a meno che è un rato positivo e negativo! Secondo me è pari! E' al massimo, eh! 2-1 2-1 Vabbè! Ok! Beh, alla prossima! Vabbè! Vabbè! Vabbè!